prossima fermata chiasso questo treno prosegue come regio express stilo per como san giovanni monza milano centrale l'attraversamento del confine è consentito unicamente con documenti di viaggio validi e in assenza di merce o denaro contante da dichiarare gli uffici della dogana presenti in stazione sono a disposizione per eventuali formalità nexta halt chiasso dieser zug fährt weiter als regio express stilo nach como san giovanni monza milano centrale grenzübertritt nur gestattet mit gültigen reisedokumenten und ohne deklarationspflichtige waren oder devisen next stop chiasso this train continues as regio express tilo to como san giovanni monza milan border crossing permitted only with valid travel documents and no merchandise or currency requiring declaration prossima fermata milano centrale capolinea tutti sono pregati di scendere nexta halt milano centrale endbahnhof wir bitten alle reisenden auszusteigen next stop milan terminal station all passengers are kindly requested to leave the train benvenuti sul regio express stilo a destinazione di monza serenio bellinzona erstfeld vi ricordiamo che nei trasporti pubblici è obbligatorio indossare la mascherina vi begrüssen sie in regio express stilo nach monza serenio bellinzona erstfeld monza Seregno, Bellinzona, Erstfeld. Please note that masks must be worn on public transport. Monza. Seregno. Albate Camerlata. Como-San Giovanni. Prossima fermata. Chiasso. Questo treno prosegue come Regio Express Tilo per Mendrisio, Bellinzona, Erstfeld. L'attraversamento del confine è consentito unicamente con documenti di viaggio validi e in assenza di merce o denaro contante da dichiarare. Gli uffici della Dogana presenti in stazione sono a disposizione per eventuali formalità. Nächster halt. Chiasso. Dieser Zug fährt weiter als Regio Express Tilo nach Mendrisio, Bellinzona, Erstfeld. Grenzübertritt nur gestattet mit gültigen Reisedokumenten und ohne deklarationspflichtige Waren oder Devisen. Next stop. Chiasso. This train continues as Regio Express Tilo to Mendrisio, Bellinzona, Erstfeld. Border crossing permitted only with valid travel documents and no merchandise or currency requiring declaration. Mendrisio Lugano Benvenuti sul Regio Express a destinazione di Lamoneca Dempino, Bellinzona, Biasca, Erstfeld. Vi ricordiamo che nei trasporti pubblici è obbligatorio indossare la mascherina. Die SBB begrüßt Sie im Regio Express nach Lamoneca Dempino, Bellinzona, Biasca, Erstfeld. Bitte beachten Sie, dass im öffentlichen Verkehr eine mascherinpflicht gilt. Lamoneca Dempino Questo treno prosegue senza fermata fino a Giubiasco. Giubiasco Pellinzona Benvenuti sul Regio Express a destinazione di Castione Arbedo, Biasca, Bodio, Erstfeld. Vi ricordiamo che nei trasporti pubblici è obbligatorio indossare la mascherina. Die SBB begrüßt Sie im Regio Express nach Castione Arbedo, Biasca, Bodio, Erstfeld. Bitte beachten Sie, dass im öffentlichen Verkehr eine mascherinpflicht gilt. Castione Arbedo Biasca Biasca Biodio Biodio Lavorgo Biodio 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 Grazie a tutti. Vi ricordiamo che nei trasporti pubblici è obbligatorio indossare la mascherina. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.